Solo con un grande disegno si potrà rilanciare l'economia italiana dopo la crisi innescata dall'emergenza Covid-19. La classe politica deve individuare una strategia di lungo periodo. Sarà necessaria una digitalizzazione capillare e servirà a difendere le grandi aziende italiane con pubblico e privato uniti per vincere la sfida del rilancio. Se ne è parlato al webinar della Lewis Business School una visione strategica per l'economia dopo il Covid-19. A introdurre il dibattito Gianni Letta nel suo ruolo di presidente dell'associazione Davide De Luca Una vita per l'intelligence che con Lewis Business School organizza il ciclo di incontri a punti sull'interesse nazionale. Letta ha citato la ricostruzione dopo la guerra e il coraggio della classe dirigente di allora di sognare in grande. Un coraggio che ha portato al boom economico. Ecco io penso che oggi noi dovremmo avere bisogno di questo e forse questa la politica oggi frammentata come non è capace di farlo di concepire un piano che risponda a un disegno e che abbia anche il coraggio di una visione che sappia volare alto dare dei traguardi e degli obiettivi sui quali parametrare poi gli interventi per la ricostruzione per uscire dall'emergenza prima e per la ricostruzione poi. Secondo Paolo Scaroni, deputy chairman di Rothschild, Covid-19 ha determinato il crollo dei prezzi del petrolio e questo ritarderà la transizione energetica e la lotta al riscaldamento globale. Per uscire da questa crisi serve un cambio di passo anche nella mentalità e nella politica italiana. Noi vorremmo che nulla cambi mai ma la verità è che il mondo non fa che cambiare e il mondo post Covid sarà un mondo molto diverso dal mondo pre Covid quindi è inutile che siamo qui a chiederci quanti artigiani rimarranno a lavoro, quante botteghe rimarranno aperte. Noi non lo sappiamo, noi non dobbiamo difendere i posti di lavoro, dobbiamo difendere le occasioni di direttori. Il fatto che ci siano nuovi posti di lavoro. Secondo Matteo Delfante, amministratore delegato di poste italiane, questa emergenza ha messo in luce quanto sia importante per la crescita la digitalizzazione. Io credo che questo sia un'occasione, quello che ci è successo, per accelerare lungo una serie di direttrici la possibilità di lavorare in maniera diversa. Non siamo purtroppo facilitati in Italia dalla diffusione della connessione perché ovviamente purtroppo la diffusione della banda ultralarga in questo paese ancora non è sufficiente e sicuramente non è a livelli degli altri grandi paesi europei, però è comunque un'occasione per lavorare in maniera diversa. Su Smart Working, digitalizzazione e reti 5G, secondo il presidente del Copasir Raffaele Volpi serve certezza sulla sicurezza, tanto più quando sulle reti passano interessi strategici nazionali. E sullo scudo della Golden Power ha dichiarato. È uno strumento, io lo interpreto anche come uno strumento deterrente, che rappresenta il fatto che uno Stato, che una nazione sia attento ai propri asset. E sono gli asset industriali, ma non da ultimo, mi sia permesso di dire, sicuramente noi abbiamo una sfida che deve essere quella di rendere coese le nostre maggiori e migliori strutture. Golden Power vuol dire difendere, ma vuol dire anche essere certi che c'è un sistema paese in tutti i settori in un grande progetto strategico. A trarre le conclusioni del dibattito il direttore di Lewis Business School, Paolo Boccardelli. Il tratto comune che tutti voi avete sottolineato è classe dirigente e capitale umano. Siamo ancora tra i paesi che investe di meno nell'università, nella ricerca, nella scuola. Dobbiamo mettere insieme di nuovo istituzioni pubbliche con mondo privato per creare quell'investimento significativo per la nuova leadership di questo paese. Quello che manca non solo nelle organizzazioni pubbliche è un gap di leadership, un gap che consente alle aziende, alle istituzioni di guardare al futuro, alla visione lontana, ma al tempo stesso gestire la complessità di oggi, ovvero la complessità che ci porterà fuori da questa crisi.